buongiorno data l'euforia di... sembro una pazza lo so, ma lo sono data l'euforia di ieri, così volevo tranquillizzarvi sul fatto che è finita è stata una notte terribile, ieri ho parlato, non avrei dovuto parlare e ho ricevuto una punizione, sì, una punizione tremenda quindi una notte terribile mi ha pure spaccato il labbro cioè io praticamente sono tornata alla mia routine dove la mattina sembro sempre vittima di violenza domestica ma lasciamo perdere, mamma, sì, va bene, acqua sparatemi, sparatemi, sparatemi quindi oggi diciamo niente rossetto c'è niente euforia, mettiamola così va bene, allora ho provato, mi hanno consigliato di caricare cioè di provare a girare un video con la videocamera effettivamente, con la videocamera, sì, col telefono in orizzontale e così provo a fare, adesso proviamo a caricarlo niente, così per tranquillizzare tutti che non ho iniziato a dormire ciao! 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 ciao!